Finalmente mettiamo mano in quello che è un bene identitario della nostra città, un bene monumentale che se ricordiamo venne realizzato nel 1552 proprio perché doveva proteggerci un po' da quelli che erano gli sbarchi saraceni con una doppia funzione sia nella parte alta appunto per andare a controllare quella che era la zona del porto ma anche in quella bassa dove c'era la famosa Santa Barbara, quindi la polveriera per tutto quello che era la parte difensiva bene, l'intenzione è proprio quella di rendere finalmente questo bene visitabile e accessibile in tutte le sue parti cosa che oggi invece possiamo farlo solo nella parte alta, per cui partiremo con dei lavori divisi su divisi in tre momenti da subito sostituiamo adesso nei prossimi giorni la rampa all'ingresso nella parte alta, quella per disabili Nello stesso tempo abbiamo già approvato il progetto definitivo per la riqualificazione della parte bassa che prevede la sostituzione della pavimentazione dove oggi c'è quel coccio pesto rosso ammalorato andiamo a fare una nuova pavimentazione di Levocell a questa si aggiunge anche tutta una nuova illuminazione suggestiva e scenografica appunto che verrà spinta dal basso verso l'alto un po' come quella che abbiamo già al pincio che darà lustro a tutta la cinta muraria del bene e successivamente diciamo che ci stiamo già lavorando con i progettisti internamente stiamo lavorando proprio su un progetto per la fruizione e l'accessibilità di tutta quella che è la parte interna che appunto prevede già la realizzazione di nuove uscite di sicurezza di tutto un circuito che è accessibile anche alle persone che non sono normodotate quindi con l'abbattimento proprio delle barriere architettoniche è molto importante questo perché valorizzare i beni significa sicuramente fargli anche darne una concessione a tutte quelle associazioni che li fanno vivere al meglio, li fanno anche scoprire però è importante poi metterli in sicurezza e fare una manutenzione che permetta la fruizione in totale armonia Quali sono i tempi previsti? Ottobre monteremo subito la nuova scala accessibile nella parte alta e entro fine anno mandiamo a gara il progetto definitivo per cui i lavori diciamo della pavimentazione nuova illuminazione per la prossima primavera saranno compiuti Nel frattempo ci stiamo adoperando proprio per mettere a terra quello che è il progetto per la fruizione interna perché l'obiettivo è arrivare per la prossima estate insomma con tutto il bene visitabile